L'Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica istituzione pubblica italiana dedicata alla tutela dei bambini. Continua a farlo anche adesso dopo sei secoli e accoglie anche le madri in difficoltà con i loro bambini. Specificamente la mission dell'Istituto sarebbe questo, promuovere e tutelare i diritti della infanzia e dell'adolescenza, valorezzare e conservare il suo patrimonio artistico, monumentale e storico e essere di modello di buon governo e qualità gestionale. Bene, da un anno a questa parte ci sono un po' di problemi su quest'ultimo punto perché ci sono due procedimenti in corso da parte della Procura di Firenze e da parte della Procura regionale della Corte dei Conti. Attualmente quasi ogni giorno l'Istituto viene visitato dalla Guardia di Finanza per alcuni accertamenti quindi evidentemente l'ultimo punto della mission non viene rispettato ed è subentrato questo problema da quando la politica ha iniziato a occuparsi della questione che riguardano l'ospedale degli Innocenti di Firenze. Noi abbiamo presentato un'interrogazione molto specifica di sette pagine puntuale su una serie di irregolarità che sono emerse anche dai procedimenti e che riguardano prevalentemente l'assegnazione degli appalti e il modo in cui sono stati gestiti i soldi per la creazione del nuovo Museo degli Innocenti. È prevista l'apertura di questo nuovo Museo per il 23 giugno del 2016 in realtà doveva essere precedente a aprile 2015 eppure già da quell'anno erano state segnalate da parte di alcuni dipendenti delle gravi irregolarità al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore. Tutte queste informative, tutte queste segnalazioni sono state inascoltate, si è proceduto e adesso il risultato è che ci sono due procedimenti come stavamo dicendo e ci sono anche delle gravi responsabilità da parte di chi ha consentito che tutto ciò andasse avanti nonostante tutte queste problematiche che si sono verificate. Solo alcune pillole di criticità che abbiamo evidenziato nel nostro atto. Ci sono ipotizzate carenze del progetto esecutivo con un aumento della spesa conseguente di oltre 550.000 euro. C'è un accordo bonario alla ditta per 450.000 euro per opere extra contattuali che sono state ordinate a lavori già in corso. C'è un affidamento dell'incarico al responsabile unico del procedimento che non possedeva i requisiti di legge e al quale è stato affiancato quindi un'altra persona con le conseguenze che immaginate dal punto di vista del ricarico economico riguardo l'incarico ad un'altra persona. Quindi noi, in seguito a queste e molte altre criticità che sono elencate dettagliatamente nel nostro atto noi facciamo una richiesta specifica a Enrico Rossi. Deve e può commissariare l'Istituto degli Innocenti perché il Presidente della Giunta regionale ha funzioni di controllo e vigilanza e inoltre nomina tre dei cinque amministratori. Quindi l'atto che noi chiediamo a Rossi, date le criticità, date i due precedimenti in corso a nostro avviso è un atto dovuto ed è molto grave che non abbia già provveduto e se provvederà che provveda soltanto perché è stata la minoranza a fargli notare quelle che sono delle carenze che ormai sono evidenze a tutti. L'Istituto degli Innocenti ha per sei secoli avuto un'attività meritoria nei confronti dell'Italia, della Toscana e del mondo intero. Noi chiediamo che questa eccellenza di cui siamo orgognosi venga tutelata e non venga ridotta al mercimonio dei partiti o di chi che sia voglia fare il proprio interesse perché veramente sarebbe un grave scadimento per quanto riguarda tutto ciò che è la realtà toscana e italiana riguardo la tutela dei bambini e dei giovani.